Ciao a tutti, sono Marta Giuliano, una ragazza di 30 anni che viene dalla provincia di Cuneo, esattamente da Saluzzo, anzi esattamente da Villanovetta di Verzuolo, che è un paesino di 2000 anime, ma vivo a Roma da 11 anni. Sono una contorsionista, ballerina acrobata aerea e ho un passato da ginnasta, di ginnastica ritmica. Infatti ho una scuola con mia mamma, che è stata la mia prima allenatrice, che si chiama Ginnastica Saluzzo Libertas, alleno le ragazzine, sono tecnico federale e giudice regionale. La mia vita si alterna tra spettacoli, show in giro per il mondo e insegnamento. Lo faccio da 11 anni a livello professionale e ho avuto la possibilità di girare veramente il mondo e sta cosa mi rende felice, tanto felice. E niente, ora c'è stato questo stop forzato, ho sfruttato questo tempo per allenarmi e per fare tanto lavoro in smart working con le ragazzine. Finalmente qualcosa si sta riprendendo e la prima tournevera e propria è questa qua del Giro d'Italia. Per me è il decimo Giro d'Italia e ho fatto di tutto il Giro d'Italia, mi manca solo farlo in bici. E niente, speriamo che la ripresa sia sempre più evidente, soprattutto per i lavoratori dello spettacolo, che sono una categoria importante in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, dove c'è un sacco di arte e un sacco di bella roba da vedere, da fare e da regalare al pubblico. Presto, finito il Giro d'Italia, avrò un evento a Berlino e quindi inizierò di nuovo anche a viaggiare, speriamo, incrociamo le dita e vi saluto tutti quanti. Grazie. 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 Grazie.